Musica Pericoloso incidente ieri pomeriggio sulla statale 17 all'altezza di Castelpetroso. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo mentre guidava finendo nella scarpata adiacente la sede stradale. Immediati soccorsi del 118 ma per fortuna per l'uomo probabilmente sorpreso da un colpo di sonno nessuna grave conseguenza. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno eseguito i rilevi del caso e i vigili del fuoco impegnati nella rimozione del mezzo. A seguito dell'incidente l'ANAS ha provveduto a chiudere provvisoriamente il tratto di strada interessato in corrispondenza del chilometro 191-700 all'altezza della Basilica deviando il traffico lungo viabilità alternative. Custodia cautelare in carcere per il 24enne napoletano responsabile della rapina avvenuta giorni fa presso la tabaccheria di Santa Maria del Molise. La relativa ordinanza è stata eseguita dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Isernia. Arrestato in flagranza di reato dopo un inseguimento sulla statale 17 e beccato con armi in pugno, il giovane era stato inizialmente sottoposto all'obbligo di firma giornaliera. Su richiesta della Procura della Repubblica però il GIP del Tribunale di Isernia lo ha riportato in carcere. Per il suo complice 17enne invece rimane confermata la restrizione presso un centro di accoglienza per minori. Continuano le indagini per assicurare alla giustizia gli ignoti malviventi che hanno messo a segno un colpo rocambolesco al bar di Civitanova del Sannio sulla Trignina. Tutto un po' strano in questo episodio di delinquenza. Penetrati attraverso un buco praticato nel tetto di cemento armato, i ladri acrobati si sono impossessati di 6.000 euro in contanti, presi dalla cassa delle macchinette. Hanno trascurato invece sia le stecche di sigarette sia i valori bollati. Nonostante lo scatto dell'allarme però, il furto è stato scoperto solo diverse ore dopo. Come hanno fatto i malviventi a bucare il cemento armato senza essere notati? Come mai l'allarme non ha prodotto l'effetto che avrebbe dovuto produrre? Perché sono stati trascurati i valori bollati e sigarette? Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Agnone. Giornata conclusiva quella di oggi per la conferenza internazionale Four Pillars Communicate Euseir organizzata dalla Regione Molise presso la Sala del Parlamento di Palazzo Vitale a Campobasso. Al centro delle relazioni del dibattito, tecniche, metodologie e strumenti per diffondere e comunicare in modo efficace la strategia Euseir. La cosiddetta strategia dell'Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica, questo il significato dell'acronimo, coinvolge il Molise in una serie di iniziative che riguardano anche stati non appartenenti all'Unione. La nostra regione è tra quelle più direttamente impegnate a dare il proprio contributo di idee. Lo scopo è quello di definire un indirizzo strategico per l'impiego delle tante risorse finanziarie che vengono messe a disposizione dei paesi bagnati dai mari Adriatico e Ionio. Più concretamente, le varie iniziative tendono a favorire lo scambio di buone pratiche tra i partner dell'area Adriatico-Ionica per migliorare la governance a livello locale. Per ampliare il confronto sulla strategia Euseir, è stata creata anche una piattaforma e-learning. Riceveranno un indennizzo di 30 euro al giorno i pescatori che hanno dovuto sospendere la loro attività in conseguenza del cosiddetto fermo biologico. Il provvedimento è contenuto in un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Lo scopo è quello di garantire nel 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca che dal fermo biologico sono solitamente messi in ginocchio. Con l'introduzione dell'indennizzo giornaliero per la sospensione dell'attività, commenta l'On. Molisana Laura Venitelli, responsabile nazionale del PD per la pesca e l'acquacultura, forniamo l'ennesima risposta al mondo della pesca in questo percorso di governo del Paese che per il comparto ittico ha rappresentato una vera e propria svolta. È stato centrato, ha proseguito, un obiettivo che veniva inseguito da molto tempo sia dalle associazioni armatoriali che dal mondo ittico cooperativo e associativo. Il provvedimento diventerà legge con l'approvazione definitiva del bilancio 2017. Presentazione ieri di due nuove unità di ricerca costituite dall'Università del Molise all'interno della divisione di Fisica Informatica e Matematica. La nuova organizzazione si è resa necessaria per la nuova laurea magistrale in sicurezza dei sistemi software. Sempre ieri è ripartito a Campobasso il ciclo dei seminari curato dalla professoressa Gilda Antonelli nell'ambito dell'insegnamento di organizzazione aziendale della filiera delle lauree economico-aziendali di Unimol. Il tema di ieri è stato trattato da Romolo Dorazio, CEO di Moda Impresa, che ha parlato di start-up nel fashion, modelli organizzativi innovativi. La prima edizione del ciclo seminariale risale a cinque anni fa. Quella dell'anno scorso ha avuto come titolo Testimonianze, quella di quest'anno Start-up. Il primo dicembre si continuerà con Francesco D'Andrea, che parlerà di esperienze organizzative a confronto. Si terrà domani mattina nella sala consigliare del Comune di Campobasso la conferenza stampa di presentazione delle giornate di contrasto alla violenza di genere, alla violenza contro le donne e contro ogni forma di discriminazione. Organizzatori, gli assessori alla cultura e pari opportunità, alle politiche per il sociale e alle attività produttive. Gli eventi messi in campo, seminari, convegni, spettacoli, mostre e concorsi letterari. Sempre per domani, intanto, presso il Palazzo della provincia di Campobasso, il presidente Antonio Battista ha fissato un incontro per condividere con tutti gli amministratori e dipendenti della provincia un momento di riflessione sulle varie attività, iniziative e manifestazioni. Il 25 novembre è stato scelto nel 1999 come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Prima ancora, il giorno era stato individuato da un gruppo di donne attiviste riunitesi nell'incontro femminista latino-americano e dei Caraibi tenutosi a Bogotà nel 1981. Il riferimento è al 25 novembre 1960, quando furono assassinate le tre sorelle Mirabal, esempio di donne rivoluzionari per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leonidas Truillo, il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nella retratezza e nel caos per oltre 30 anni. Un'unica Un'unica Grazie a tutti.